Nuova elettrizzante giornata qui a Magico, in piazza Palio a Lecce, il villaggio dei bambini, la rassegna evento in programma fino a domenica 17 marzo. Divertimento e apprendimento, svago e creatività, gioco e collaborazione, Magico assume anche una marcata connotazione culturale e sociale, affiancando alle pure e semplici attività ludiche un'ampia gamma di occasioni di apprendimento che vanno dall'esercizio delle più elementari abilità manuali alla elaborazione di materiali di vario genere e alla interazione con gli altri bambini. I metodi di apprendimento collaborativo vengono già efficacemente proposti dagli istituti scolastici attraverso le attività di gruppo, Magico non fa altro che ripropordi in un ambiente informale caratterizzato da un clima vivace e festoso, da libertà di movimento e di espressione. Incontra la fantasia, Magico vi aspetta.